Un percorso virtuoso e un modello di governance che permetterà al Masterplan di cogliere la grande occasione di sviluppo che merita il nostro straordinario territorio. Ha commentato così questa mattina il presidente della provincia di Salerno Franco Alfieri il programma integrato di valorizzazione del litorale Salerno Sud nel corso di un incontro nella sala giunta dell'ente di Palazzo Sant'Agostino per discutere della costituzione dell'ufficio comune del Masterplan. L'occasione per fare il punto della situazione insieme ai responsabili della regione Campania e ai sindaci interessati. Un progetto finanziato per una prima trancia a valere sull'asse strategico dei fondi POR-FESR per 20 milioni di euro che riguarda i comuni di Salerno, Ponte Cagnano, Faiano, Bellizzi, Battipaglia, Eboli, Agropoli e Castellabate con i quali è necessario verificare le attività da mettere in campo ai fini della costituzione dell'ufficio comune del Masterplan. La provincia di Salerno, in quanto ente capofila, dovrà fungere da snodo fondamentale tra la più generale funzione programmatoria regionale e il ruolo essenziale dei comuni. In realtà si prende atto di passi importanti, decisivi, perché con la delibera della giunta regionale della Campania il presidente De Luca, con la delibera 426, approva il progetto definitivo qui addirittura stanzia una risorsa già importante di 20 milioni di euro e addirittura viene stabilita qual è la governance perché oggi il tempo della concertazione dei progetti è finito, anche se bisogna poi andare avanti con gradi di progettazione definitivi e esecutivi ma il grosso, la visione già c'è e bisogna governare il processo di sviluppo del Masterplan. Viene individuato nell'articolo 30, quindi una convenzione tra comuni entra la provincia come comune capofila proprio su questa convenzione articolo 30 quindi c'è un passo molto avanzato rispetto ormai alla gestione e alla realizzazione di tante opere che sono previste nel Masterplan. Noi puntiamo a cambiare tutto, a migliorare la qualità della vita innanzitutto dei cittadini a risolvere il degrado che è nella fascia costiera a intervenire sul mare con il ripascimento, con la realizzazione di pondili quindi un'accessibilità anche da mare, una riqualificazione della pinita il problema dei refluizotecnici, i centri abitati importanti di Ponte Cagnano, Battipaglia quindi con una riqualificazione anche urbana ci sono tantissime cose, poi ci sono dei progetti emblematici cioè che ogni comune ha scelto una sua idea forte di rottura rispetto allo stato attuale i tabacchifici come nel caso di Battipaglia e di Eboli il centro sport, tempo libero, museo multimediale a Pestum c'è la porta di ingresso al Masterplan a Salerno Città La durata del mandato del Presidente Alfieri potrebbe essere utile per la prima pietra per l'avvio di un progetto? Sicuramente, sicuramente io spero tanto che insieme ai colleghi sindaci si possa dare inizio a delle prime opere che saranno individuate anche perché la risorsa finanziaria che la Regione Campania ha inteso assegnarci quindi è anche un atto di concretezza, di fiducia, di credere in questo strumento che è importante d'altra parte il Masterplan è uno strumento di programmazione, di pianificazione di sviluppo che è stato adottato anche nell'Agronucerino, nella costa Salerno Sud in provincia di Caserta, ce ne sarà un altro in provincia di Avellino questo è uno strumento che ci auguriamo davvero non sia soltanto il cambio del nome perché noi sui territori abbiamo avuto l'affollamento di sigle, di enti, di soggetti però io nel Masterplan davvero ci credo perché è una cosa più rigorosa